Poi, le alleanze. Anche qui, io trovo che il tema delle alleanze è... Rispondi, rispondi. Ma dai, salutiamo, facciamo vedere. Sto pronto? Che succede? No, è la fine, la fine che spiego qua. Tu a che ora finisci di andare a lezioni? Eh, beh, per me è un po' tardi. Ho da fare. O allora verso le 5 e mezza, così, le 6. Ciao. Sì. Ciao. Vabbè, però può lasciare. Cost'entusiasmo che hai dato l'appuntamento. Mia figlia. No, dobbiamo portare il cane dal veterinario. Il cane dal veterinario. Sta male, come dire. Cosa che succede. Da lei, ma porta il cane dal veterinario? Diciamo le ste cose. Che paese pensa che datema gli animali, le viviseziona? Invece no. No, no. Ecco. Insieme a miei figli. Sono una persona normale. Un buon padre che porta il cane dal veterinario. Cioè, un profilo veramente neanche a quel trono. Un profilo del genere se lo sognano. Diciamolo questa cosa. Io penso che lo faccio anche, guarda. No, però guarda. E' un profettioso con le figlie, assolutamente. Noi conosciamo da tanti anni. Che noi siamo delle persone più o meno normali, diciamo. Noi chiamiamo.